Due mesi di gestione e poi sperare che ci sia il bando pronto, sono avanti di proroga in proroga, non vi sembra la migliore delle soluzioni? Assolutamente no, già non ci sembra coerente questa, chiaramente il resto diventerebbe molto difficile da poter gestire. Come un po' dicevo prima, gestire e riuscire a organizzare oggi per tutto l'anno, sapendo che hai a disposizione solo due mesi, diventa complicato. Quindi mi auguro che questo possa essere superato dal nuovo bando e quindi riuscire ad avere un po' più di serenità e poter programmare negli anni. Preoccupati che questa potrebbe essere una stagione segnata da porte chiuse? No, no, sinceramente non ho pensato a questa possibilità, non credo proprio, l'amministrazione da tanto tempo si dice che dovrebbe essere un'amica del cittadino. Mi auguro che lo dimostri e dimostri che alla fine c'è, l'amministrazione c'è per dare una mano anche a società che hanno difficoltà già di loro. Parecchio sorpresi anche dal punto in cui si è arrivato voi come principali società sportive, anche perché se ne parlava di nuovo bando, di nuova gestione, negli ultimi 8-9 mesi si è fatto un gran parlare. Beh sì, considera che stiamo parlando del febbraio, se non ricordo male c'è stata quella proposta di bando, gestione, non so come tecnicamente si può interpretare. Dopodiché è stato in qualche maniera messo da parte e ci siamo trovati oggi in una situazione... Si è visto dal decreto Renzi. Esatto, dal decreto Renzi in una situazione di tempistica, dal punto di vista tempistico assolutamente in ritardo. Quindi io non pensavo di arrivare oggi, normalmente già negli altri anni, a giugno usciva il bando, insomma, anche se è un po' in ritardo, però erano quelli i tempi. Adesso siamo veramente in fortissimo ritardo. Quello che magari chiedete è, però non si ragioni su 11 mesi alla volta, ma allargare il discorso di gestione. Assolutamente, assolutamente sì. Poi chiunque gestisca lo farà, mi auguro che lo faccia, per il bene comune, oltre che quello, giustamente, di riuscire a gestire in maniera coerente e corretta. Però è improponibile, da anni che andiamo avanti con questa storia di un anno alla volta, ogni anno cambia la gestione, ogni volta c'è da rapportarsi a nuovi gestori, quindi diventa sempre molto difficile per la società sportiva. Senza pensare che le strutture, cittadella, palazzetto, palestra la catena, chiedono poi anche interventi che di anno in anno, come manutenzione, da ordinari, diventano sempre più straordinari. Voi parteciperete a questa procedura negoziata per i due mesi? Stiamo valutando insieme all'Ortigia e probabilmente altre società la possibilità di presentarci, ma proprio nello spirito di, intanto, egoisticamente, perché comunque dobbiamo pensare al futuro della nostra società, quindi, considerando che il 24-25 inizia il campionato, che il 24 agosto cominciamo l'attività, il 24 settembre inizierà il campionato, quindi dobbiamo intanto preservare quello che sono i nostri accordi che abbiamo preso con vari atleti e allenatori, ma poi anche perché riteniamo che sia corretto prendersi un minimo di responsabilità come società sportive e proseguire in questi due mesi quello che fino ad oggi è stato fatto dall'Ortigia, per dare un minimo di continuità. Evitiamo le proroghe? Assolutamente sì, evitiamo le proroghe, cioè chiudiamo questo percorso e chiudiamo nel modo migliore, con un bando almeno decennale.